Siamo a Supramonte Selvaggio con Carlo e con Gonaria, mosti meravigliosi e regalo eccezionale unico che hanno voluto fare a me e a Elena. Grazie, grazie, grazie. Siamo sbalorditi dalla bellezza selvaggia di questi posti impenetrabili che raccontano la storia dell'umanità dove l'uomo come nella foresta primaria non ha messo mai mano alle piante e si mantengono nei secoli così come erano fin dall'inizio. Mamma che spettacolo! Ci vuole tutta l'abilità di Carlo per poterci portare in questi posti con questo fuoristrada. È veramente bravissimo in tutto, generosissimo in tutto. Insomma, signore e signori, vi presento Carlo, il numero uno, il re buono di Supramonte. Grazie Carlo.